bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di troiango strategy allora io ho fatto un po di missioni che stanno nella taverna per fare arrivare tutti quanti a livello 9 ho utilizzato anche quelli nuovi tra quelli lui che il mago di vento che mi ha sbloccato pure un altro attacco di ghiaccio e poi lui che in realtà non è male come personaggio perché se ce l'avete e ammazzate la gente con lui date il corpo finale vi aumenteranno i soldi che otterrete quindi con la scusa di farlo salire di livello in pratica ho sbloccato un bel po di soldi e ho preso degli oggetti che costavano il 5 ciascuno ne ho presi tra quindi io dire io ho potenziato molti di loro e vabbè e adesso andiamo con la battaglia un totale il mio prince è sbagliato che ci guardavate sono scrisate per il nostro escollo che si arrivano grazie maggiore volevo che mi abbia fatto più Tu hai fatto bene per stando contro Gustendolf. Il tuo padre sarebbe stato orgoglioso di vedere. Siamo salvati le piacere, fino a che si tratta la porta, eh? Tutti qui? Siamo. Abrappare la porta, Eridore. Quali che dici, mio signore. Sì, speriamo che possiamo farlo senza quelli che i bambini che... Alla qui! Quanto pare ci hanno già beccato. Ok, quindi ci hanno bloccato la fuga. Ok, un'uomo sotto in aglia. Quindi dobbiamo affrontarli su due fronti. Allora, vediamo la panoramica se ce la dà. Ok. Ok, quindi dobbiamo far fuori quelli che stanno vicino alla lieva. Ci dobbiamo pure muovere perché arriveranno altri dal ponte. Ok. Vediamo loro cosa ci raccomandano di personaggi. Ma io sinceramente non so se mettere l'arci era. Preferisco uno sul bastone. Ma forse è meglio questo. No, forse è meglio un altro che cura. O questo qua. Ah, ma questo mi ha di più. Ok. 9 su 9. Andiamo. No. Sì, sì. Eh sì, qua sono tutti arcieri, so. Alla prossima. 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 Oh, ha scocciato questo. Oh ha scocciato questo. ha mancato I can still move Supper Soundstrike Let us pry out their weakness A brief respite I shall do my best My knowledge grows deeper Let me heal your wounds Okay, area curativa I'm behind you Much appreciated I fight for peace Let me help So, it falls to me This bout is mine That went well I've been waiting for this Okay, speciale apri cancello Va bene Okay, siamo entrato Allora, arrivano altri di là Che bello Don't let them escape Capture the royal brat Kill all the others Protect the prince No matter how many come Our blades will keep them at bay They've overrun the bridge already Very well Oh, oh, oh Non fa morire lì quando fa Oh, oh, oh duas Add all the demons Of course Who did As for Brace yourself! Leave everything to me. Was nice knowing ya. We must tread carefully. Sound strike! Sound strike! Oh no! Defeat is not an option. Let us pry out their weakness. You are overconfident. Now! Are we not finished? One more! Ah, mi sono messo vicino all'arciera Mi sa che ho fatto una cagata I'm behind you I can keep fighting Allow me I've been waiting for this Non si muovono questi Penso che mi stia addosso On my honor as the Dawnspear It ends I was prepared for this This is the end My turn Aspetta che salgo sopra Poi vedi che culo che ti faccio No slaggin' off You have my thanks For the honor of House Wolfort Now I end this I will end this There is no mercy on the battlefield Stay composed Stay composed Now then, to work I see through you To further the arcane arts Let me heal your wounds Allow me I'll take you on I'll take you on I'll take you on You must tread carefully Che fa' Ascesa Permette di spostarsi Di una castella Adiacente Adiacere di spostarsi Minore di 15 Ah, vabbè C'è tutta me I won't lose On si vedi niente C'è tutta I can't hold back Teisty, aren't we? Passato le scatole Questo, guarda Now I end this Let me show you what I've learned Flames, heed my call It's for a better world There is no mercy on the battlefield There is no mercy on the battlefield Now So, it falls to me So, it falls to me So, it falls to me Let me heal your wounds Let me heal your wounds Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Now it's my turn. No slack at all! I owe you my life. So where shall we strike? This end is here! It's for my kithing kin. Let me show you what I've learned. Let me show you what I've learned. Let me show you what I've learned. Leave it to me! Leave it to me! Now, man. To work. I shall do what I can. Allow me. Much appreciated. On my honor as the Dawnspeaker. Your final moments of hurt. Just as I planned. For victory! Come at me! Come at me! You're in the way! I love the battlefield! Oh, impossible! Leave everything to me! Ain't over yet! I will remember this. Forward! I shall try my level best. I shall try my level best. You're out! I'll try my level best. You're in the way! Let me show you what I've learned. Grazie a tutti 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 Ok Ok sei morto Grazie a tutti Grazie a tutti Non posso manco provare Grazie a tutti Grazie a tutti Oh Penso Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Grazie a tutti Ok Perché Tu Grazie a tutti 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 Grazie a tutti